GIOVEDÌ DELLA QUINDICESSIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO DAL VANGELO SECONDO MATTEO In quel tempo, Gesù disse, Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco In un mondo pieno di parole e di complicate spiegazioni, a volte abbiamo bisogno semplicemente che qualcuno ci prenda a cuore. Il Vangelo di oggi sembra fare proprio questo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Chi più di lui sa guardare nel nostro cuore, e sa accorgersi che, delle volte, è abitato da una immensa stanchezza. Con tutta la buona volontà che possiamo metterci, dobbiamo però accettare che, nella vita, non basta la buona volontà. Ci si può esaurire, non avere più le forze, le motivazioni, la speranza. Sono quei momenti in cui non abbiamo bisogno di un'altra predica, ma solo di una spalla. Gesù ci offre la sua spalla, come il luogo decisivo dove tutto può cambiare. Finché la fede non diventa esperienza viva di questo consegnarsi e lasciarsi portare da lui, allora anche la fede può diventare una delle tante cose da fare della vita. Prendete il mio gioco sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, e il mio peso leggero. Ecco dov'è il segreto, sapere che non siamo soli con le nostre croci, e quando non ne possiamo più, lui invece può ancora e ci porta misteriosamente. È sapere questo che ci rende miti e umili, perché l'amitezza è possibile solo per coloro che smettono di difendersi, e l'umiltà è possibile solo per coloro che hanno smesso di confidare in se stessi. La sua presenza ci fa abbassare le difese e ci dispone alla fiducia. Oggi il Vangelo ci insegna che la via più difficile per ognuno di noi in realtà coincide con la cosa più semplice che si dovrebbe fare, e cioè salire in braccio a lui. Sembra che, da quando siamo adulti, non sappiamo più come si faccia. Eppure, se a un uomo bastassero le idee, allora basterebbe un libro a salvarlo. Ma un uomo ha bisogno di fatti, e finché non ci sono i fatti, anche l'idea migliore non è per niente d'aiuto. Gesù si è incarnato e venuto al mondo per donare a ciascuno di noi la concretezza di una esperienza. Gesù si è nata. Gesù si è nata. Gesù si è nata.